...viena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Pregate fratelli, che la vita è breve, pregate fratelli che la vita è breve. Te sciacquo di te, sono Monsignor Stella, è il Monsignor Stella, è il diocese di Cucurano. Ma adesso è un po' di coglione, ma è Monsignor Stella, sono Monsignor Stella, è il Monsignor Stella, ma steppare 73 anni ancora da venerdì, pregate che la vita è breve, la vita è in stampa, la tua è breve, no, 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 è il mio, voi siete un peccatore, ci vuole una benedizione, dovete pentirvi, pentitevi, guardate che la voce è fatta, benedico il suo potente steus, peccatore, pure questa mia roba, ammé. No, vabbè, è il Monsignor Stella, guarda come ride, ma il Monsignor Stella ti è venuto a trovare, facciamogli controlla il cincillato. Io e il Monsignore sono tutti stronze. No, no, ma stella... Tocchiamo il Cicillà con la stella. Vai, con la stella. Vai, vai, toccate. Exurgit, 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 magica Europa. Exurgit, 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 exurgit. Cicillorum, amen. Che sciacquo di coglioni. 73 anni e non sentirli. Ancora fa il mucciotto. E non sentirli. Ricordati. Ah, le senti, le senti. Non pensate niente.